La formaldeide è un gas presente in natura, l'hanno trovata anche su Marte. Di recente è stata posta nell'elenco dei prodotti pericolosi per l'uomo. La formaldeide è usata nei collanti che vengono utilizzati nella realizzazione dei mobili. Un controllo dell'emissione di formaldeide è importante per garantirsi la sicurezza di questi arredi. Catas è un laboratorio ormai a livello internazionale che effettua questi controlli. Quello che noi valutiamo è la formaldeide. La formaldeide è un gas che viene emesso dalle colle presenti all'interno dei mobili, si sfrutta la sua grande solubilità in acqua e tutti i metodi di riferimento normati fanno sì che i mobili, i pannelli o essi componenti vengono messi all'interno di camere che simulano quello che è l'ambiente di vita domestico. Una volta prelevata quest'aria e fatta gorgogliare in acqua, quest'acqua viene analizzata con dei metodi chimici e quello che si ottiene è una colorazione che mi determina la presenza o meno di formaldeide e in che concentrazione. Alla fine delle prove il Catas rilascia un rapporto di prova che certifica la conformità alle norme dei prodotti provati.